chiaramente io quando arrivo qua mi informo Walter Mazzarri insieme alla società insieme alle giocatori che sono qua insieme alle tifosi ha fatto un grandissimo lavoro l'ho detto e lo dico un'altra volta adesso abbiamo un allenatore diverso giocatori diversi e la società ha scelto un'altra strada che tutti questi che l'hanno scorso qua hanno fatto un grandissimo lavoro senza dubbio adesso guardiamo avanti e io credo che i giocatori che sono qua devono dimostrare che hanno un livello e che loro hanno fatto il suo lavoro l'anno scorso come l'hanno fatto i tifosi e come l'ha fatto la società che questa società era una società con problemi prima e tutti insieme hanno arrivato dove siamo adesso per questo noi lo che dobbiamo dire è ringraziare il lavoro che hanno fatto loro perché siamo qua abbiamo girato la Champions e adesso siamo qua a questo livello perché tutti hanno fatto il suo lavoro io ho capito 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 io ho capito